Salve a tutti Pogamici, sono state date le prime informazioni sull'edizione occidentale della quinta espansione del gioco di carte collezionabili. L'espansione, il cui nome inglese è Ultra Prism, uscirà in Italia il 3 febbraio. Incentrata su Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna, introdurrà un nuovo tipo di carte, le Prism Card, di cui per adesso non si hanno altre notizie in merito. L'espansione, composta da 150 carte escluse delle rare segrete, comprenderà le carte della quinta espansione giapponese e del set speciale Battle Box. All'interno, oltre a 3 carte energie speciali e 18 carte allenatore, potremmo trovare 10 nuove GX, di cui 5 incentrate sulle Ultra Creature. Poiché le Ultra Creature di Sole e Luna sono già state rilasciate e poiché 3 delle 5 GX saranno probabilmente le GX di UC Fragor, UC Struttura e UC Viscosus, le altre due rimanenti potrebbero essere GX di nuove Ultra Creature ancora non svelate. Infine, le mascotte dell'espansione saranno Necrozma Ercriniera del Vespro e Necrozma Ali dell'Aurora. Come sempre, spero che questa news vi sia piaciuta. Se volete supportare il canale, mettete mi piace e condividete. Qui è tutto, ci vediamo alla prossima poche news.